In questo video sto usando la pialla per smussare questi spigoli in modo che questa diventi una superficie tonda. 30 secondi. Vedete come mi servo dello scarpello per togliere la smussatura perché la pialla qui dentro non entra facilmente. Poi quando arrivo qui passerebbe contro l'angolo. Ok. Qui come potete vedere il lato che stavo facendo è già finito. Potete vedere come è diventato curvo. Questa superficie è diventata curva. Ho smussato le parti con questa pialla. Poi l'ho smussata con questo scalpello. Poi l'ho ben carteggiata. E questo è il risultato finale. Come riuscite a vedere qui è una cornice che è diventata larga 13 cm. Si compone di varie parti. Come nel filmato precedente avevate visto, avevo incollato questa parte di legno di Ajux a questa parte di legno di Cirmolo. Successivamente ho posto sopra questa parte di Cirmolo e l'ho smussata. Questa è la cornice finita. Nel prossimo video sarete in grado di vedere come si applicano gli ornati di pasta di legno prima della doratura. Grazie e arrivederci.